Per il quarto anno consecutivo la polisportiva campana Salernitana Sporting insieme con l'omonimo centro studi e l'istituto di ricerca sport economy ha organizzato un workshop di tre giorni sulle principali tematiche dello sport business dal titolo marketing virale e fiscalità dello sport. Sette i moduli di intervento che hanno abbracciato varie tematiche di interesse riguardanti tra gli altri il marketing sportivo del territorio, gli aspetti giuridici e fiscali delle società sportive e l'impatto della crisi economica sulla gestione delle società sportive. Nella tre giorni del seminario che ha preso vita in tre diverse location, ultima ieri quella del Grand Hotel Salerno, è stata focalizzata l'attenzione anche sulla gestione manageriale delle aziende sportive, sull'importanza della progettualità e sull'investimento nei settori giovanili, esaminando alcune società sportive del Salernitano come la Salerno Rugby, la Scuola Volley Salerno, la Virtus Nuoto Salerno e la Fugilistica Salernitana, ponendo l'accento su come le piccole società sportive facciano fatica talvolta a far quadrare i conti e ad uscire dalla catalogazione di sport minori.